Noi faremo un piatto che richiede tre metodi di cottura diversi. Oggi prepareremo un branzino al sale con porri cotti nella creta e una composta cotta in foglie. Simone parte con la cottura del porro nella creta e io il branzino al sale. Nel bicchiere ho messo prezzemolo, basilico, rosmarino che servono sia a dare profumo che colore. Adesso metto del sale. Ad avvolgere il porro in questo momento con la creta. In una planetaria metto la farina, il sale e le uova. Dobbiamo ottenere tipo una pasta all'uovo che la puoi tirare. Una composta con melanzane, funghi porcini, cipollotti, zucchero, foglia di castagna. Vedete? La pasta era perfetta. Un po' di acqua così si attacca con l'altra parte della pasta. Composto all'interno del nostro stampino. Chiudiamo. Vado a incidere le squame. Vado a spennellare un po' di uovo che gli dà più colore poi quando andiamo a cuocere. Quando ho rotto quella creta è uscito un profumo da dire wow, questa cosa fatta in sala secondo me è il top. Ogni volta che lo chef muove le mani è sempre un piacere vederlo. Mettiamo un po' di salsa alla Mediterranea. Mettiamo un po' di erbe. Un filo d'olio. Ecco qua. Imparare così tante cose in così poco tempo dal vivo è spettacolare. Mettiamo un po' di erbe.